Ora percepiamo i 400 euro di cassa integrazione, però come aveva già detto il collega, noi la retribuzione di maggio non abbiamo percepito niente, le poche ore lavorate, anche queste di giugno, nello stesso momento non ci sono stati dati assegni familiari, in parte ci sono stati dati, è la quattordicesima che ci spettava. Però le ripeto, noi siamo qui anche per questo perché logicamente ci permette di vivere, però ciò che urge a noi sono i vecchi accordi che non sono stati rispettati. Quarto giorno di protesta, fin quando andrete avanti? In oltranza, cioè fin quando qualcuno non ci ascolta, il comune ci avevano detto che effettivamente si poteva creare un tavolo con la prefettura, ma fino ad oggi non è stato fatto niente effettivamente.